Ciao a tutti e benvenuti, dunque ci siamo, arriviamo alla partita importante, la più importante fra quelle che ci mancano di qui alla fine del campionato, anche se poi scopriremo che dopo Napoli-Milan avremo il battito del cuore per Milan-Empoli, per Cagliari-Milan, per Milan-Bologna, per tutte le partite che restano di qui alla fine della stagione, poi avremo un'ultima parte di calendario molto molto dura. Però è chiaro che in un calcio che vive molto di impatti emotivi, di onde che vanno e che vengono, di mode delle dichiarazioni, è chiaro che non perdere oggi a Napoli significherebbe evidentemente accrescere la considerazione nei confronti del Milan, ma sarà veramente così? Perché, vedete, ieri è passato un po' sotto traccia un passaggio dalla conferenza stampa di Stefano Pioglia a Milanello, quando un collega ha fatto notare a Stefano Pioli, ma il Milan nella classifica avulsa fra le prime sette del campionato è primo. Cioè vuol dire che fra le prime sette squadre del campionato, se fai tutti i risultati incrociati fra queste, il Milan è primo. Ragazzi, è una sorpresa assoluta. Adesso vi spiego perché. Prima lasciatemi introdurre il portfoglio di servizi che vi propone e di opportunità che vi propone l'app di OneFootball, tutte facilities, tutti contenuti gratuiti, l'app di OneFootball a vostra disposizione, l'app di OneFootball vi propone news, approfondimenti, curiosità, partite, streaming, video, highlights, l'app di OneFootball scaricatela dal link alla descrizione di questo video, l'app di OneFootball a vostra disposizione scaricatela. È in forma assolutamente gratuita. È una sorpresa perché, ragazzi, tutte le volte che c'è stato un confronto fra il Milan e le prime sette, quindi le altre sei, siamo partiti sfavoriti. Erano sempre più forti gli altri. Vi ricordate Juve-Milan, Milan-Juve, Inter-Milan, Milan-Inter, Atalanta-Milan, Milan-Napoli. Erano sempre più forti gli altri. Noi sempre sfavoriti, sempre. È strano però che poi vai a vedere la classifica avulsa fra le prime sette ad oggi, perché c'è la parita di stasera, e il Milan è primo. Vuol dire che qualche pronosticuccio è stato sbagliato. Però la mia non è una considerazione vittimistica e da sindrome d'accerchiamento in relazione alla parita di stasera, perché il Napoli è fortissimo. Il Napoli ha tutto. Il Napoli ha un grandissimo difensore centrale, una difesa compatta, ha tante alternative a centrocampo, può scegliere. Ha un attacco pieno di colpi, pieno di guizzi. Delle ultime due partite che abbiamo perso in casa contro il Napoli a San Siro, sono stati due guizzi. Uno di Politano all'inizio del secondo tempo e uno di Elmas all'inizio della partita su angolo. Due guizzi. E poi il Napoli è riuscito a essere compatto, è riuscito a tenere. Cioè è una squadra che non si affida solo alla brillantezza dei singoli. È una squadra che ha struttura. È una squadra che ha vinto a Roma con la Lazio e la vittoria della Lazio ieri sera sul campo del Cagliari ci dice che, per carità, la Lazio ogni tanto ha delle ricadute, l'abbiamo visto anche in Coppa Italia a San Siro contro di noi, però ci dice che la vittoria del Napoli sul campo della Lazio è stata una vittoria di valore assoluto, è stata una vittoria molto importante. Quindi è questa la dimensione dell'avversario che noi andiamo ad affrontare stasera. rispetto al quale noi dovremmo essere squadra, dovremmo saper tenere, dovremmo saper... Ecco, forse fra le due il Milan è la squadra che le partite oggi sono tante partite nella partita. Forse noi possiamo giocare più partite rispetto al Napoli, ecco questo sì. Però bisogna vedere come va la parte iniziale della partita, perché se il piano partita sorride al Napoli poi evidentemente diventa difficile rimontare. È chiaro che il Napoli si sente in uno di quei momenti in cui è sul punto di toccare il cielo con un dito. C'è un entusiasmo che si può toccare assolutamente con mano nella splendida città di Napoli. Poi l'evocazione di ieri di Luciano Spalletti, Diego ci benedica, Diego ci faccia vincere, eccetera, e indubbiamente è servito per caricare l'ambiente. Per carità, non tutti i derby degli anni Ottanta a Napoli li ha vinti il Napoli. Non tutti, no, questo non è un derby, chiedo scusa. Non tutte le grandi sfide Napoli-Milan a Napoli negli anni Ottanta la vinte il Napoli. Il Milan perse male a Napoli due volte. due volte nell'andata 88-89, nell'andata 89-90. Però 87-88 campionato, 89-90 Coppa Italia e 90-91 campionato ci furono due vittorie del Milano e un pareggio. Quindi insomma il grande, grandissimo, gigantesco Diego ci ha fatto tanti gol ci ha fatto tanto soffrire, ci ha fatto tanto penare però insomma non semprissimo gli è andata bene. Però al di là di queste di queste battute, di questo coinvolgimento di un fuoriclasse totale, globale, assoluto, eterno del calcio come Diego Armando Maradona restiamo a noi, restiamo a noi. Tanto, ragazzi, il nostro destino ma non è una cosa rispetto alla quale fare pianisteo, non è il momento del pianisteo questo. Il nostro destino è arrivare a queste sfide sempre da sfavoriti, sono sempre più forti gli altri. E forse è questo che ci deve dare forza. I nostri giocatori lo sanno, che tutti pensano che venga a Napoli stasera. Vedo anche alcuni titoli di quotidiani, non la gazzetta, non tutto sport, che insomma non vedo l'ora di scrivere il risultato favorevole a favore del Napoli perché, non lo so, hanno deciso che c'è qualcosa nel Milan che non li convince, che non piace, non lo so però non è certo questo il momento del pianisteo. Questo è il momento invece in cui raccogliere le nostre forze. Noi abbiamo dimostrato una saldezza nervosa importantissima in questa stagione quando ce lo siamo detti tante volte però, ripetelo, nel giorno di gara forse può fare un certo effetto anche a voi. Siamo andati dopo la trambata contro l'Atletico Madrid perché non c'è niente che perdere una partita quando la strameriti di vincere per un'ingiustizia dell'arbitro. Però questa è una squadra che sa accettare le ingiustizie. Abbiamo battuto l'Inter dopo quello... abbiamo pareggiato con la Juve, essendo stata l'unica squadra a tirare in porta dopo quello che di clamoroso ci è successo con lo Spezia. Siamo andati a vincere a Bergamo dopo l'Atletico Madrid. Andiamo a giocare a Napoli dopo il fuorigioco geografico di Giroud. i tifosi napoletani mi scrivono, mi hanno scritto che stai zitto, abbiamo vinto meritatamente a San Siro, ragazzi. Quel Milan-Napoli di dicembre era un pareggio. Fatto, finito e scolpito. Un pareggio, tanti assenti noi, tanti assenti Napoli, era un pareggio. Napoli ha fatto un tiro in porta, il Milan poi ha provato a fare la partita, ha avuto qualche occasione, ma era giusto il pareggio. Una partita proprio fra due squadre pre-natalizie, stanche e piene di acciacchi. E quindi c'è quel fuorigioco geografico di Giroud al quale dobbiamo reagire, ma non reagire, le nostre reazioni non sono mai isteriche. Le nostre reazioni sono sempre di gioco, di campo, di prestazione, di aiutarsi, di collettivo, di giocare insieme, di stare corti, di fare le cose giuste al momento giusto. Perché oggi ci giochiamo tanto, lo sappiamo, e ci giochiamo tanto su quel terreno in trasferta dove spesso abbiamo saputo far bene. Il Napoli in casa gode di un pubblico straordinario, però ha avuto anche qualche problema anche il Napoli in casa, come abbiamo avuto noi, con lo Spezia, con il Sassuolo, con l'Udinese. Quindi stasera sappiamo di giocarci molto, penso anch'io che in casa sua e per l'euforia del 2-1 sulla Lazio, il Napoli parta un filo più avanti a noi. ma questa è una squadra, la nostra, che mi auguro anche oggi sappia fare quella cosa che in pochi sanno fare, giocare col vento in faccia, giocare contro l'alea che ti creano tutte le cose che vengono dette, l'atmosfera, il clima. Noi dobbiamo essere bravi a quella dell'underdog non è una vocazione che ci spetta molto, però è una zona che per noi in questi due ultimi anni si è rivelata di comfort. Vedremo, vedremo che cosa accadrà, la partita è durissima e ripeto, il Napoli è fortissimo, ma vero, non fortissimo per scheramanzia o per frasi di circostanze, è fortissimo vero. Vediamo, vediamoci, vediamoci, sentiamo dopo la parita di stasera.